alessandro accompagna mamma carmen e la sorella carmelina a fare un servizio fotografico ma si poteva chiamare il taxi no adesso sta registrando ogni video fai sta scena sta scena sta scena perché non ciò gli amore guarda devo mettere gli occhiali ancora non riesci a capire adesso capisco vabbè in ogni modo stiamo andando a fare un servizio fotografico ma non ho capito perché non abbiamo preso il taxi scusami che adesso è pieno di coso eccetera tranquilla no ma c'è il traffico ogni volta è una tarandella con te basta come si fa dammi sto coach mamma te l'ho fatto per te io sono tre ore vabbè dai ma sta in registrazione comunque puoi togliere i beccucci come si chiamano i beccucci di gallina dai qua dai i beccucci no questi i beccucci di gallina togliere perché siamo arrivati al fotografo sennò non vuole perdere tempo leva leva il beccuccio su si chiamano come si chiamano non lo so ma sta registrando sì che meraviglia guarda che finalmente così arrivarono i tre moschettieri come vi ci chiamiamo i tre ma metti vicino al leone che ti faccio una foto vai metti vicino al leone brava così sorridi quanto dura sta foto perché non la fai più andiamo cammino entro no 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 che vuol dire no questa porta sul palazzo fobrica che vuol dire come entrare aprimi dai non fa tante tarandelle entra e aprimi vabbè scusa ma che fa il video ma fanno quando mi sono finita di truccare disgraziato vattene si gentile ma io non ho parole carmen c'è da ridire su tutto e cerca di mettere in mostra anche sua figlia carmelina e intanto diventano i tre moschettieri